Il canile sanitario di Lecce Gli animali arrivano al canile, vengono controllati, sterilizzati, vaccinati e poi dovrebbero essere trasportati in un rifugio che attualmente la città di Lecce non possiede, o meglio abbiamo un rifugio, Rifugio Aura che è di proprietà dell'associazione Nuova Lara che gestisce attualmente anche questo canile. Una questione burocratica, un bando che non esce, un intoppo da parte delle istituzioni non permette che questi cani vengano trasferiti. Mercoledì 10 cani sono stati trasportati al canile privato di Casarano perché una parte di questa struttura già non capiente abbastanza è stata venduta. Di conseguenza questi 10 cani sono stati trasportati a Casarano attraverso poi degli accordi che poi sono stati appunto raggiunti. Questi cani adesso si trovano a Rifugio Aura più altri 20 che sono gratuitamente tenuti dall'associazione in base ad un accordo stipulato con l'assessore alle politiche ambientali Andrea Guido. Siamo qui con Paola Gorgoni, presidente dell'associazione Nuova Lara. Allora voi gestite il canile sanitario di Lecce, la cronaca insomma ci parla di una situazione all'ostremo, 160 cani sono attualmente in questa struttura, sappiamo che 30 sono in fase di trasferimento presso Rifugio Aura. Come fate fronte a questa emergenza, tutti questi cani in una struttura che può contenere solo 40 ospiti? Ovviamente soprattutto nell'ultimo anno che ha visto un incremento del numero di animali entrati abbiamo cercato di fare fronte sia ospitandoli presso le case dei nostri volontari in minima parte sia occupando tutte le sale e le aree libere di questa struttura. Parliamo per esempio del bagno e la sala operatoria, degli appartamenti di sopra, terrazze, sfogliatoio dei dipendenti, recintini approntati all'ingresso per cercare di sistemarli alla meno peggio. Ovviamente soprattutto in quest'ultimo periodo la situazione si è resa drammatica anche perché nel 2012 comunque sono entrati circa 380 cani, cosa che non era mai successa negli anni precedenti. Adesso siamo riusciti finalmente a raggiungere un accordo con il Comune di Lecce facendoci carico di 30 animali che verranno ricoverati presso il rifugio di nostra proprietà, il rifugio di Aura, gratuitamente fino all'arrivo del bando che poi deciderà dove trasferire tutti i cani in esubero che ci sono nel sanitario. Come mai l'uscita del bando sta tardando in questo modo, diciamo in qualche modo anche aggravando la situazione che c'è qui al canile sanitario? Ovviamente loro sostengono di aver bisogno della legge per poter comunque fare legittimamente il trasferimento dei cani. Noi abbiamo chiesto comunque provvedimenti d'urgenza da una situazione drammatica, il compromesso è stato comunque raggiunto, rendendoci noi disponibili. Pur di non far andare i nostri cani in altre strutture come era successo tre giorni fa, ci siamo resti disponibili a ospitarli noi gratuitamente. L'importante per noi è soprattutto riuscire a gestire la situazione qua dentro, quindi non importa farci carico delle spese di questi animali, l'importante è che possiamo mettere da parte l'angoscia ogni volta che arriva un nuovo cane e non sapere dove sistemarlo, di andare a inserire in gruppi magari numerosi causando comunque un rischio per gli animali stessi. La fortuna dell'associazione di cui tu sei presidente è che voi avete il record di adozioni. So che in un anno avete raggiunto 419 adozioni. Nell'ultimo triennio abbiamo fatto 156 circa nel 2012, ovviamente questo è possibile grazie alla squadra di volontari che è l'associazione alle spalle che si occupa sia della messa in rete degli annunci di adozione, sia di tutto ciò che poi comporta le questioni di preaffido, i controlli di preaffido. Quindi sicuramente abbiamo il record, l'ultimo triennio è solo di poco più di 400 cani dati in adozione. Quello di cui ha bisogno attualmente il canile, oltre che di una risoluzione del problema, state facendo una raccolta di materiale, di coperte, un aiuto insomma da parte di tutti i cittadini? Sì, ovviamente quest'anno ci siamo visti un po' costretti a chiedere l'aiuto di tutti perché comunque con le nostre sole forze a volte non ce la si fa e allora magari anche ciò che non comporta una spesa per il cittadino, come per esempio le coperte, gli asciugamani, comunque che non servono più e devono essere buttati, i giornali, noi accettiamo di tutto perché comunque continuiamo nonostante il numero di cani a fare l'esterizzazione e quindi anche le canette in degenza hanno bisogno di materiale extra, sì. Quindi questo è anche un appello ai cittadini, insomma, voi anche il sabato dalle 11 alle 13 ospitate tutti i volontari che vogliono darvi una mano per portare a spasso insomma i cani che sono rinchiusi in questi box? Sì, il nostro appuntamento ormai è fisso da un anno, dalle 11 all'una, ogni sabato si ritrovano sia volontari dell'associazione sia qualsiasi cittadino che voglia contribuire in qualsiasi maniera portando i cani a passeggio piuttosto che sistemando i cuccioli o anche soltanto dando comunque il proprio appoggio morale perché comunque bisogna venire qui e vedere per poter capire in che situazione noi siamo costretti a lavorare, noi volontari e gli operatori. Sì, questo ritardo da parte delle istituzioni può in qualche modo anche influire sui cittadini. Noi conosciamo la storia del rifugio Aura, Aura è una cagnolina che è stata maltrattata, vittima di un gesto ignobile da parte di alcuni ragazzini. Questo ritardo da parte delle istituzioni non può in qualche modo essere un esempio negativo per i cittadini vista già la situazione di gravità che c'è nella città di Lecce. Il rifugio di Aura che è stato dedicato a lei proprio perché è stata la nostra associazione a recuperare la cagnetta e a soccorrere purtroppo a vederla morire dopo pochi giorni voleva proprio avere il senso di non dimenticare di non dimenticare i gesti così gravi ma in genere la situazione in cui sono costretti a vivere tanti animali qui da noi ancora e che poi si ritrovano ovviamente in preda anche alle pazzie della gente. Quindi per noi vuole essere un gesto per capire che bisogna fare di più ed è questo il motivo per cui noi abbiamo costruito il rifugio sia per aiutare i cani di Lecce sia per poter aiutare anche tutti quelli della provincia che hanno bisogno compatibilmente con le nostre possibilità. Benissimo, allora nella speranza che questa soluzione avvenga presto ti auguriamo buona fortuna con i 30 cani al rifugio Aura. Sì, oggi è sicuramente una bella giornata per noi perché abbiamo iniziato il nostro tanto desiderato trasloco. Siamo qui a Rifugio Aura dove è in corso il trasferimento dei 10 cani più gli altri 20 che sono alla base dell'accordo con l'assessore alle politiche ambientali Andrea Guido. Le volontarie si stanno prodigando affinché il trasferimento dei cani sia comodo e i cani vengano sistemati nel migliore dei modi. Questo, come ci ha appena comunicato l'avvocato Floriano Catanzaro che è il vicepresidente dell'Associazione Nuova Lara, è il sogno delle volontarie e di tutti gli appartenenti all'Associazione Nuova Lara. Infatti vediamo, questa è una struttura a 5 stelle, possiamo definirla così. Per i nostri amici a quattro zampe c'è a disposizione uno spazio verde, i box non sono risicati, i cani si possono muovere liberamente, hanno la possibilità di stare sia al sole che nelle loro cucce, quindi questa è veramente una struttura con tutti i comfort dove i cani potrebbero realmente stare nel migliore dei modi. Quindi il trasferimento del canile sanitario sarebbe la cosa ideale per i 160 cani che sono attualmente, abbiamo visto prima stipati in condizioni disastrose e praticamente in una condizione inaudita. Quindi l'auspicio di tutti noi è che la risoluzione del problema avvenga quanto prima, quindi questo è l'invito anche che facciamo alle istituzioni affinché con l'uscita del bando questo spostamento avvenga quanto prima. Grazie a tutti.